Miei cari amici italiani, come al solito, la mattina sono andata a vedere qualche notizia e ho scelto questa volta l'ANSA. Cosa vedo? Ucraina, combattiamo per Putin, ci dà soldi e nazionalità. Non so come si può dare la nazionalità, si può dare la cittadinanza, boh, nazionalità, non lo so. Ma il punto bello non è questo. Vediamo insieme cosa hanno scritto sotto il titolo. Parlano i siriani disperati in cerca di una fuga dalla povertà. Lorenzo Trombetta, Beirut. 23 marzo del 2022, quindi oggi. L'ANSA dice che ha intervistato alcuni siriani, di cui veramente non vedo né faccia né nessun altro riferimento, quindi posso dire quello che voglio. Parla intanto della povertà, il 90% della popolazione di un paese dove circa 10 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le loro case. Peccato che non raccontano per colpa di chi. Vabbè. Quando bombardano gli Stati Uniti va tutto bene. Comunque non è quello il punto. Guardate bene la foto dell'articolo. Mi dicono che sono siriani. Ok? Peccato che quella scritta lì è in russo. Ai ai ai, come mai? Ho notato anche questo watermark. Vediamo un po' com'è. Che peccato che non è a fuoco. Ma il peccato vero è che io so a chi appartiene questo watermark. Sono una ragazza intelligente. Secondo voi, cosa c'è scritto qua? Kadyrov. Vi risulta? Kadyrov. Conoscete questo nome? Penso di sì. Anche questa è l'ansa. Soltanto che in spagnolo. Vediamo, vediamo. Il 17 marzo i ceceni erano già a Leopoli e il 23 marzo sono diventati siriani. Alleluia! Avete l'idea dove si trova Leopoli? Ve lo faccio vedere. Questa è la città di Leopoli, in ucraino Olvif. Si trova quasi al confine con la Polonia. E ora vi dico dove veramente si trovavano i ceceni il 17 marzo del 2022. Il titolo dice I soldati della Cecenia difendono Mariupol. Quello che ho sottolineato in rosso è la città di Mariupol. E ora ve la faccio vedere quella città sulla mappa. Guardate bene. Mariupol. E ora ritorno a Leopoli. Certo, in aereo si può arrivarci in giornata. Ma come ben sapete, gli aerei adesso non camminano, non volano, non viaggiano. Ma non è finita qui. I desiderosi di speculare di questa foto ce ne sono. E ritorniamo agli articoli in italiano. Guerra in Ucraina, i servizi segreti, comando russi in missione per uccidere Zelensky. E ora questi ragazzi che prima erano siriani, poi ceceni, no, prima ceceni, poi siriani, adesso sono russi. No, non mi va a lasciarvi malinformati. Dovete sapere come sono i siriani veri. Guardate un po' i lineamenti. La lunghezza della barba. Il colore della pelle. Vabbè, a metterli di profilo. Quasi quasi, magari sono pure i ceceni. Ma magari anche i russi, che ne so. Per finirla proprio bene bene, vi informo che quando ho fatto la ricerca per la foto, l'ho fatta in due sistemi di ricerca. Google e Yandex, quello russo. Su Yandex non ho trovato neanche uno dei siti con questa foto. Ma neanche uno. Però, vabbè, Yandex è russo, Russia è un nemico. È normale che non c'è niente. Andiamo su Google. Qui vedo che questa foto appare, giusto giusto, cinque giorni indietro, cinque giorni fa. Non prima, ok? E ho visto che ci sono tantissimi siti che hanno sfruttato questa foto. Peccato che tra quei tre che vi ho fatto vedere, gli altri non l'avevano più. Ma ho cercato tanto, 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 non ho trovato niente. Né articolo, né foto. Insomma, i siti italiani in fretta e furia non si sono accordati tra di loro. Problemi mica miei. Per essere completamente soddisfatta, vi aggiungo che i siriani sì che vogliono venire in Ucraina. Sì che vogliono sostenere e ringraziare l'esercito russo. Peccato che le dicono di stare a casa. Peccato che nessuno di giornalisti italiani, chissà quanti ce ne sono, non avranno la possibilità di fotografarli. Quindi, cari italiani, sappiate che esiste la lista di 10-15 mila di siriani che vorrebbero, che vogliono venire in Ucraina. Ma per ora stanno in Siria, non a Leopoli, non a Melitopol, non a Mariupol, non a Kharkov. Niente, né tu, né tu, né tu. Niente, né tu, né tu. Niente, né tu. Grazie.